Adesso vediamo Mark che eseguirà un lancio Unitec, si prepara per il gesto atletico. Sì, è troppo lungo? No, è ok. E più in line con il ruolo? Sono tardi. Da qua mi devo mettere. Vabbè, mica tanto. Caricare più sulla piegatura adesso. No, è buono adesso. Scomodo, molto. Questo è molto buono. Ha detto che è più energia che metti dentro. Secondo me è una questione di abituarsi. Sai cosa devi dire? Io soffro il gervigale. È troppa rotazione e mi faccio la testa. Ma il più che si pratica. Dice che ha problemi nel suo cuore. E quando fa troppo rotazione... Sì. Io faccio l'ultima prova per come lo farei io. Perfetto, sì. Molto buono. Cosa non vuoi? Carinelli numero uno. Non vuoi, distanzi. Eh, che cazzo non lo pregio. Non vuoi essere... Sera dritto. Guarda, guarda che dottor. Sera dritto. È al centro lago. Molto. Sera dritto. Sera dritto. Sera dritto. Sera dritto. Sera dritto. Sera dritto. Grazie a tutti.